Gentili telespettatori, buona giornata. Vaiolo delle scimmie, degli orango, degli scimpanzei, insomma tutta la famiglia dei primati. Sul vaiolo delle scimmie abbiamo visto, abbiamo visto, vi ho raccontato nei video precedenti, non so se li avete visti, ascoltati, l'Europa ha già ordinato vaccini per tutti i 27 paesi membri. La Gran Bretagna li ha ordinati da sola e li sta somministrando i vaccini a personale sanitario, eccetera, eccetera. Vediamo l'OMS e dice attenzione, questo è solo l'inizio, adesso ci saranno molti più casi. C'è anche un paese che ha comprato i vaccini per conto proprio, a parte la Gran Bretagna, ma vuole rimanere in anonimato. E a me ho detto, sarà mica Roby Speranza con James Draghi, no? Che stanno comprando di nascosto un po' di vaccini giusto per... Tanto ne abbiamo buttati un sacco che stavano scadendo, l'abbiamo donati, per non avere controlli dei conti. E adesso interviene anche Bassetti, perché i virologi sono in festa. Diceva, spiterina, non è manco finita una, ne comincia un'altra, di nuovo televisioni, inviti, giornali, delle star perenni. L'infettivologo genovese del San Martino Campanaro di Genova ci racconta che serve addirittura l'isolamento per 21 giorni, una quarantena che neanche per il Covid c'era, un isolamento di 21 giorni perché questo virus dura 2-3 settimane, 7-14-21. 3 settimane sono 21 giorni. Dice, serve isolare per 21 giorni le persone infette, anche quelli che hanno i contatti stretti, come fanno in Gran Bretagna e in altri paesi. Siamo a 300 casi in Europa, tra poco saranno migliaia. Subito, dice l'infettivologo genovese, subito quarantena per gli infetti, contagiati da vaiolo delle scimmie e i loro contatti stretti per 21 giorni, dice il direttore della clinica di malattie infettive genovese. Dice, non si tratta di uno strumento da medioevo, dice Bassetti, come affermato dal direttore dello spallanzani Francesco Vaia, racconta così Bassetti alla DN Cronos, un'agenzia di stampa, nella sua rubrica salute. Dice, non è uno strumento da medioevo, ma di fare quello che abbiamo sempre fatto noi infettivologi ed esperti di sanità pubblica. Se c'è un'infezione ci si deve isolare e i contatti stretti devono fare una quarantena. Questo si fa per ogni malattia infettiva trasmissibile attraverso il contatto. E credo che sia giusto farlo anche con il vaiolo delle scimmie. Sarà anche stata introdotta nel medioevo, ma la quarantena è oggi ancora utile. A parte che quarantena io credo che derivi da 40 giorni, non vorrei sbagliarmi e dire una cretinata, ma io non sono un medico. Ecco, quindi quarantena credo che erano 40 giorni, ma quarantena sono 21, insomma. Se, dice Bassetti, Austria, Belgio, Germania, Regno Unito l'hanno fatto, credo che abbiano seguito le indicazioni, visto che è un'infezione che ha un tempo di incubazione addirittura 21 giorni. Però, se voi guardate l'incubazione 21 giorni e il decorso della malattia altre 3 settimane, qui si parla di 6 settimane tra incubazione e fine della malattia, quindi altro che 21 giorni. In quarantena, fino a settembre praticamente. In Italia, dice, dobbiamo isolare i casi e i contatti molto stretti. Le persone che hanno dormito nello stesso letto dovrebbero, per 2-3 settimane, rimanere confinate in un ambiente domiciliare. Questo, se si vuole limitare, la diffusione del virus, o come direbbe Di Maio, del virus. Sapete che lui è poliglotta, Di Maio parla tante lingue, allora virus, virus, vai-airus. Siamo a, oltre, dice Bassetti, 300 casi di vaiolo delle scimmie, in oltre 20 paesi. Nelle prossime ore, barra giorni, arriveremo a migliaia di casi, tanto che credo sia inutile continuare a dare i numeri, conclude l'infettivologo. Come dire, lasciamo perdere, il destino ormai ci porta verso migliaia di casi. Ma che aspeterina? Ma adesso i virus arrivano tutti assieme. C'è una convention, un ritrovo di... Capisco che siamo diventati troppi sul pianeta, anche se Bill Gates dice che non è vero e Elon Musk dice che... Anzi, c'è uno spopolamento preoccupato. Ma dov'è questo spopolamento? Siamo, oltre 8 miliardi. Nel 1974 eravamo 4 miliardi. Quando sono arato io, nel mondo c'erano 4 miliardi. Oggi il doppio. Il doppio. In 48 anni è raddoppiata la polizia... Non la polizia, ma... La popolazione mondiale. E così, con tutte queste persone nel mondo, e con la globalizzazione, viaggi, ci sono più aerei che macchine, la gente viaggia, si sposta di qua, di là, e si trasportano anche questi virus, che sono endemici, cioè sono delle malattie conclamate in alcuni paesi, ma in Europa a volte sono casi sporadici. E qui i casi non sono più sporadici. Quindi vediamo che il modo di vivere di oggi, potersi muovere con pochi soldi, da aereo, da una parte all'altra del mondo, in poche ore, questa globalizzazione dove siamo dappertutto e porta anche a queste malattie, a correre, a muoversi, anche in posti che non aveva mai raggiunto prima. Sembra quasi una frase di Star Trek, no? Là dove nessun uomo è mai giunto prima. Sì. Capitano Kirk e l'Enterprise. Va bene. Io vi ringrazio anche oggi per avermi ascoltato, seguito il canale. Fra poco raggiungerà 200 milioni di visualizzazioni. Impressionante. Solo a dirlo fa impressione. Non avrei mai immaginato che un canale nell'arco di due anni possa arrivare a 200 milioni di visualizzazioni. E 207.700 iscritti, perché poi sono di mille in mille gli iscritti, quindi appaiono sul canale, ogni mille appare, no? I 207.700 non viene visto sul canale. Pertanto andiamo avanti così e naturalmente tutto questo è grazie a voi. Io parlo, bla bla bla, ma se non c'è nessuno che mi vede. Campa cavallo che l'erba cresce. Va bene. Grazie a tutti. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete con i 15.400 iscritti. E poi mi trovate anche su... Come si chiama? Su Twitter, dove butto paranoia e aggrappolo. Così, plum, aggrappolo. E lì è un po' più è un social di pensieri. Passano per la testa, mi scrive, no? Grazie a tutti e arrivederci a presto.